Il mio nome è Germano Scevola e sono il ministro dell'intervento di radiologia di Sandro Pertini Hospital in Roma. L'ultrasound service in mio department è uno dei principali aspetti del nostro lavoro quotidiano. Mi ricordo un altro caso di un paciente con una lesione parotidale che non aveva una vascularizzazione con un dopplero convenzionale. E' stato un caso dubbio e siamo sicuri che solo una biopsy potrebbe dare più informazioni. Usando le nuove tecnologie per la deteczione di slow vessel, il DFI, abbiamo potuto vedere il minuto vesel di questo tumore parotidale con sensibilità e dettagli. Senza questo metodo sarebbe stato impossibile scoprire il livello di digestione vascular della lesione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.